Francesco Pio Maimone, il giovane che venne ucciso senza motivo a Mergellina, è una tragedia tutt'altro che superata. La famiglia ha chiesto una targa che lo possa ricordare come vittima della criminalità. Era un aspirante, avrebbe voluto essere un pizzaiolo, ma purtroppo il sogno si è infranto dopo quella fatidica sera del 20 marzo 2023, dove venne coinvolto in una faida nel quale non c'entrava nulla. Scoppiò infatti una lite tra alcuni gruppi criminali locali per un pessone su un paio di scarpe firmate che avrebbe fatto degenerare l'omicidio del ragazzo che si trovava lì solo per sbaglio. Il killer attualmente in carcere è un giovane di 18 anni che, vedendo Maimone allontanarsi durante la violenta contesa, decise di impugnare la pistola e ucciderlo a sangue freddo con diversi colpi. Una vicenda che lasciò Napoli e l'Italia sotto shock. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ricevette i genitori ai quali si strinse insieme alla città per una morte assurda. L'avvocato Sergio Pisani, che difende la famiglia dell'assassinato, ha mandato una pecca al sindaco Gaetano Manfredi richiedendo la targa per l'anniversario.